Buongiorno, io mi chiamo Francesca Cantini, sono professore associata affiliata al Dipartimento di Chimica dell'Università delle Sude di Firenze, lavoro al Centro Risonanze Magnetiche a Sesto Fiorentino e sono docente nel corso di magistrale di Biotecnologie Molecolare. In questa presentazione vi farò vedere brevemente le caratteristiche del corso magistrale in Biotecnologie Molecolari e vi presenterò brevemente come la produzione per via ricombinante di una proteina è diventata ormai uno step molto importante nel disegno di un vaccino contro determinati patogeni. Questo è il sito del corso di laurea magistrale in Biotecnologie Molecolari dell'Università degli Studi di Firenze. E che cosa sono le biotecnologie? Per biotecnologie si intendono quelle tecnologie che controllano e modificano le attività biologiche degli esseri viventi per ottenere prodotti a livello industriale e scientifico. Quindi lo studio dei metodi per modificare il materiale genetico di cellule viventi in modo tale da produrre nuove molecole, nuove sostanze o avere per esempio nuove funzioni, far ragione a molecole e nuove funzioni. Quindi è l'insieme, si può identificare come l'insieme di quelle metodologie che sfruttando le conoscenze della biologia molecolare e di altre scienze della vita avanzate utilizzano organismi viventi come batteri, lieviti, le cellule animali oppure i loro componenti come enzimi, proteine, organelli per produrre risultati, per produrre prodotti utili nel campo della salute umana, agricoltura e in industria e nel campo dell'ambiente. Qui vi è la presentazione del corso di laurea magistrale in biotecnologie ma devo premendere che il corso di solito chi accede al corso magistrale in biotecnologie si è laureato la laurea terrenale in biotecnologie e fa capo a una scuola che è la scuola di scienze della salute umana. Ora in realtà per quanto riguarda la laurea magistrale in biotecnologie molecolari si può accedere anche da altre lauree terrenali salvo aver conseguito tutti i crediti necessari in determinati insegnamenti. La laurea terrenale in biotecnologie molecolare si divide in tre indirizzi l'indirizzo agro-ambientale, agrario-ambientale, biomolecolare e medico-farmaceutico. Da questi tre indirizzi si può poi accedere alle lauree magistrali in biotecnologie che sono anch'esse divise in tre indirizzi la biotecnologie per la gestione ambientale e l'agricoltura sostenibile che fa capo a un'altra scuola che è la scuola di agraria la laurea magistrale in biotecnologie molecolari che è quella di cui faccio parte io che fa capo a questa scuola, la scuola di scienze, matematica, fisica e naturali e la laurea magistrale in biotecnologie mediche e farmaceutiche che è capo alla scuola di scienze della salute umana. Per quanto riguarda la laurea triennale in biotecnologie ci sono, questo è qui presentato gli insegnamenti dell'indirizzo biomolecolare per tutte e tre gli indirizzi della laurea triennale ci sono degli insegnamenti a comuni come la matematica, la biologia generale, la chimica generale in organica, la fisica e così via e poi per ogni indirizzo ci sono, della laurea triennale sto parlando ci sono degli insegnamenti specifici nel caso dell'indirizzo biomolecolare ci sono insegnamenti come le elementi termodinamica, biochimica e propietà molecolari fisiologia, strutture di biomolecole, biologia molecolare e queste sono qui elencate e questa è la laurea triennale dopodiché qui ho presentato invece gli insegnamenti della laurea magistrale in biotecnologie molecolari che sono insegnamenti specifici di questa laurea magistrale e per esempio nel primo anno abbiamo insegnamenti come l'analisi dei processi biologici con approccio bioinformatico, biofisica, cellulare e molecolare biotecnologie applicate a cellule cariote con laboratorio immunologie, interazioni biomolecolari, interazioni biomolecolari con laboratorio metodi ottici, metodologie di sintesi di molecole e drug discovery, modellisti applicati a molecole di interesse biologico sono gli insegnamenti del secondo anno per quanto riguarda le svolte molecolari i laureati in biotecnologie molecolari potranno operare in vari settori potranno partecipare ai dottorati di ricerca e a scuole di specializzazione non medica inserirsi nelle industrie specializzate per le esigenze della salute umana in genere per lo sviluppo sostenibile svolgere attività di promozione e sviluppo della ricerca innovativa scientifica e tecnologica e quindi tutte quelle attività comunque che fanno parte per esempio sono inserite nel campo della ricerca scientifica applicata alle biotecnologie la laurea magistrale in biotecnologie molecolari si può suddivisa in cinque principali aree tematiche le scienze omiche e bioinformatica i metodi avanzati in biotecnologia l'interattomica e biologia strutturale integrata la sintesi di molecole bioattive e sonde molecolari metodi fisici applicati allo studio dei sistemi biologici il mio corso fa più all'area tematica di interattomica integrata ma queste aree tematiche sono strettamente collegate che per interattomica si intende tutti quegli approcci lo studio per studiare l'interazione quindi lo studio dell'interazione le molecole quali proteine con per esempio molecole come DNA, RNA o altre proteine ioni metallici o per esempio tutte le interazioni una biomolecola in generale può interagire con varie biomolecole però per fare questo è necessario per esempio caratterizzarne la struttura e sempre di più con un approccio integrato cioè integrando varie tecniche e per studiare per caratterizzare la struttura di una macromolecola o l'interazione di essa con altre macromolecole per esempio abbiamo sempre di più necessità della bioinformatica quindi dello studio delle sequenze minucidiche e genomiche e abbiamo bisogno di metodi avanzati in biotecnologia quindi adesso vi farò vedere come si può arrivare a studiare a caratterizzare la struttura di una proteina per esempio e cosa è necessario e come può essere perché questo è importante per esempio per lo sviluppo di un vaccino contro un determinato patogeno voi sapete sicuramente quali sono i processi di trascrizione e processamento dei geni del DNA che codificano le proteine nel nucleo del DNA codificante che viene trascritto nell'RNA messaggero l'RNA messaggero maturo viene trasferito nel citoplasma dove vi è una macchina o una macchina molecolare che traduce questo traduce l'RNA messaggero in proteine questo processo in realtà può essere ricostruito in laboratorio ed è quello che è tutta la tecnica questo sta dietro a tutte le tecniche di biologia molecolare che vi permettono di produrre per via ricombinante una proteina quindi perché è importante questo? perché per studiare per caratterizzare la struttura a livello atomico particolarmente di una proteina è necessario è un requisito fondamentale per conoscere per poterla utilizzare è necessario prima per esempio riprodurla e quali sono i processi importanti quindi questa proteina deve essere prodotta e non non è estratta dall'animale dall'organismo in cui si trova ma viene prodotta in laboratorio e questa produzione si dice produzione per via ricombinante quindi quali sono questo è possibile grazie a tecniche di ingegneria genetica con il termine ingegneria genetica si fa riferimento all'uso di tutte quelle tecniche che permettono di alterare artificialmente il materiale genetico quale per esempio il DNA che codifica la proteina target che volete studiare questo materiale genetico viene inserito in un organismo di origine o in un altro organismo ospite e per fare questo l'ingegneria genetica vi permette di tagliare modificare il DNA in frammenti specifici magari nel frammento che codifica per la vostra proteina di interesse questo frammento di DNA viene inserito in vettori di clonaggio che cosa sono i vettori di clonaggio i vettori di clonaggio sono elementi genetici di piccola dimensione sono dei molecole di DNA plasmidico dei plasmidi sono DNA circolari per esempio possono essere poi ci sono anche sistemi in grado di replicare autonomamente utilizzare e vengono utilizzate per contenere e replicare segmenti di DNA al loro interno clonati le molecole di DNA così trasformate vengono chiamate molecole di DNA ricombinante vengono prodotte in vitro e vengono introdotte in un opportuno organismo ospite ingegnerizzato che serve che permette di replicarle e quindi questo è lo schema per la produzione di proteine e produzione dell'espressione di proteine e la loro purificazione cioè per studiare una proteina per caratterizzarla questa può essere espressa per via ricombinante cioè che cosa vuol dire la cellula batterica ingegnerizzata in questo caso il coli per esempio ma una proteina può essere espressa anche in altri organismi che sono ingegnerizzati in questo caso si sta parlando di una cellula batterica come il coli viene all'interno di questa cellula batterica vengono introdotte un plasmide che è appunto una molecola di DNA circolare a doppia elica introdotto nella cellula batterica il plasmide a sua volta è stato clonato all'interno del plasmide è stato clonato il segmento di DNA che codifica per la proteina che volete studiare una volta introdotto questo DNA plasmidico che contiene il gene della proteina che volete studiare all'interno della cellula batterica la cellula batterica viene inserita in un mezzo di coltura cellulare si ha la produzione di batteri nuovi e centinaia di milioni che producono a loro volta il plasmide che contiene il gene della vostra proteina a questo punto l'espressione della proteina viene indotta praticamente si fa sì che il batterio ingegnerizzato produca la proteina codificata dalla DNA che avete inserito all'interno di questo DNA batterico di DNA plasmidico e in questa maniera producete esprimete la proteina di interesse quindi le proteine ricombinanti sono quelle proteine ottenute in seguito alla trascrizione e traduzione di un frammento di DNA ricombinante il gene che codifica la proteina deve essere inserito precedentemente in specifici vettori di espressione che sono appunto i plasmidi che sono dei DNA a doppia elica circolari perché questo è importante appunto perché una volta ottenuta la vostra proteina per via ricombinante la potete studiare la potete caratterizzare ne potete studiare a livello atomico la struttura tramite varie tecniche quali la crostellopatia raggis la spettroscopia di risonanza magnetica la microscopia elettronica e tutte queste informazioni sulla struttura della proteina sono inserite sono disponibili alla comunità e sono inserite in un databank che viene chiamato PDB il protein databank e sono accessibili a tutti perché è importante questo perché una volta che voi avete caratterizzato la struttura di una proteina questo è un punto di partenza fondamentale per andare avanti per studiare l'interazione proteina proteina per esempio l'interazione di questa proteina target con altre studiare l'interazione della proteina con il farmaco quello che per esempio adesso è in corso per studiare per combattere il virus covid-19 che cosa stanno facendo stanno cercando stanno producendo per via ricombinante le proteine che il covid produce che il virus produce perché il suo genoma è noto quindi il DNA che codifica per queste proteine può essere inserito in DNA plasmidici può essere prodotto in laboratorio le proteine per via ricombinante che il virus produce ma non trattando il virus ma utilizzando appunto delle tecniche di biologia molecolare e queste proteine poi possono essere studiate per fare lo screening con farmaci e quindi andare a vedere quali sono i farmaci che interagiscono con queste proteine del virus oppure per esempio studiare l'interazione delle proteine con gli anticorpi quindi le proteine considerate che danno luogo a interazioni intermolecolari potenzialmente con tutte le tipologie di biomolecole e alla base di questo vi è per esempio lo studio che abbiamo fatto recentemente con la collaborazione scientifica che abbiamo avuto recentemente con la Novartis vaccina adesso GSK vaccini che ci ha permesso di creare una molecola che era attiva e che dava luogo a era immunogenica si dice quindi che è importante per lo sviluppo di un vaccino contro il meningococco B il meningococco B è la maggiore causa di sepsi meningiti nei bambini e nei adolescenti e quello che è stato fatto è l'applicazione di una tecnica che viene chiamata reverse vaccinology cioè precedentemente i vaccini erano sviluppati cercando di isolare inattivare e iniettare la gente che causava la malattia e quindi andare a studiare il microrganismo però questo non è a parte la tempistica norme che è necessaria per fare questo ma non è possibile per molti per molti per molti patogeni cioè non è detto che sia facile isolare l'antigene da colture batteriche adesso non questa questa approccia non è più utilizzato si utilizza un approccio che viene detto di reverse vaccinology che va a vedere il genoma di quel patogeno e c'è lo studio in silico delle proteine che il patogeno espone sulla sua superficie che sono quelle importanti per l'interazione con l'ospite quindi con reverse vaccinology si intende tutte quelle un approccio rivoluzionario che consiste nella scoperta di tutti quegli antigeni batterici attraverso l'analisi della sequenza del genoma del microstomenismo che ha largamente sostituito adesso lo sviluppo dei vaccini ed è anche quello che stanno facendo ora per il virus del covid-19 stanno studiando le proteine che il virus espone sulla sua superficie perché sono quelle che interagiscono con l'ospite e il vaccino se è a base di se è fatto non a base di RNA ma utilizzando la proteina per via di combinante si basa sulla produzione della proteina che il virus utilizza per interagire con l'ospite perché è quella che è l'antigene che scatena la risposta immunitaria e con questo studio sono stati identificati tre importanti antigeni nel caso del meningococco B che il batterio espone sulla superficie e queste proteine sono state prodotte per via ricombinante sono state e sono state iniettate nei topi e sono andate a vedere quale è la risposta immunitaria e quindi se queste proteine sono veramente degli antigeni per fare queste però le proteine sono state prodotte per via ricombinante e sono anche state caratterizzate e il nostro contributo per esempio è stato quello di studiarne la struttura di una in particolare e questo è uno step importantissimo perché partendo dalla struttura la struttura la studio la caratterizzazione della struttura di questa proteina che è uno dei componenti del vaccino contro il meningococco B è fondamentale per la studio dell'interazione con gli anticorpi perché qual è il problema nel caso per esempio del meningococco B è che questo batterio è presente nella popolazione batterica del meningococco B ci sono molte sequenze esistono più di 300 sequenze e queste sequenze sono raggruppate in tre distinti varianti che non sono cross protettivi cioè il batterio meningococco B non è presente nella popolazione batterica tutto uguale ma si possono distinguere tre varianti che fra loro non sono cross protettive cioè che cosa vuol dire vuol dire che non è detto che se tu inserisci nel vaccino la variante 1 poi il vaccino prodotto possa coprire anche chi è colpito dalla chi viene a contatto con il batterio che fa parte della variante 2 o della variante 3 perché quell'antigene che è inserito nel vaccino essendo non identico a quello della variante 2 non è cross protettivo per quel tipo di ceppo che partiene all'altra variante quindi che cosa è stato fatto partendo dalla struttura che abbiamo risolto la struttura ci ha permesso di studiare l'interazione con gli anticorpi e specifici delle tre variante e cosa siamo potuti fare abbiamo potuto capire quali erano le regioni importanti per l'interazione della proteina con l'anticorpo e siamo abbiamo potuto andare siamo riusciti a identificare queste regioni identificare i residui amminocidici delle proteine che erano importanti per l'interazione con l'anticorpo nelle tre differenti varianti e questo ha permesso è stato il primo passo per portare avanti una strategia sperimentale in cui i candidati vaccini sono stati progettati in modo tale da includere delle regioni estese di epitopi protettivi naturali cioè siamo andati a variare queste regioni prendendo una proteina una delle tre varianti come stampo come proteina di base e poi siamo andati in laboratorio a variare producendo delle proteine si dice chimeriche in cui abbiamo mutato alcuni di questi residui introducendo i residui che appartenevano a un'altra variante quindi abbiamo progettato in maniera razionale un antigeno una molecola chimerica che aveva la possibilità di indurre un'ampia immunità protettiva contro tutte e tre le varianti del meningococco andando a sostituire in determinate regioni i residui per esempio della variante 1 con quelli della variante 2 che erano importanti per l'interazione con l'anticorpo e abbiamo quindi creato dei mutanti dei mutanti quindi andando a sostituire in maniera specifica delle proteine questo l'abbiamo fatto andando a mutare quel DNA che codifica per la proteina producendo i codoni importanti per la produzione per il mutante e questo approccio ha avuto un successo enorme e ha un successo enorme laddove la variabilità sequenziale degli antigeni è chiaramente un limite nella produzione del vaccino quindi il prodotto è andare a modificare in maniera specifica delle determinate regioni delle amminoacidi e quindi abbiamo sostituito alla variante 1 delle mutante dei residui per esempio della variante 2 e quindi abbiamo costruito delle proteine chimeriche che davano una protezione contro tutte le varianti quindi con questo concludo per farvi vedere e spero con questa presentazione vi abbia permesso di capire un po' che cosa sono le biotecnologie e come queste possono essere sfruttate in vari campi fra cui la produzione di vaccini contro determinati patogeni vi ringrazio arrivederci perciò ci sono perciò la produzione di vaccini in vari campi di vaccini